una cosa grande no 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 già abbiamo fatto troppo no già abbiamo fatto troppo sembra che si è sicuro più o meno oggi quello che volevo dire che ha detto mister Gabbriere, mister Giovanni quindi dobbiamo cioè, direi che andremo un po' addormentati speriamo di smentire questo questo mio pensiero e quindi voglio che cazzo fa il castellino? ruggisce! che fa? ruggisce! che cazzo fa dai? ruggisce! ecco il giudice di battaglia forza ragazzi e panna? eh 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 che cazzo fa dai? che cazzo fa dai? e poi cazzo fa dai? ruggisce un po' che cazzo fa dai? che cazzo fa dai? che cazzo fa dai? che cazzo fa dai? forza ragazzi ok Nicolo tutto posto